La gente qui non è poi così male. Non lo so, io alla fine preferisco stare da solo. Billy, ho organizzato una festa. Invito un po' tutti i tuoi amici. Quali amici? Non vedi che la vita passa? Dobbiamo godercela. Cigaretta? No, no, grazie. Cigaretta? Finalmente un uomo in questa casa. Dicevi scusa? Suoni? No. Tu? No. Cioè? Ma abitavi qui anche tu? Tanto non rispondono mai. Non è vero, non lo puoi sapere. Magari sono solo molto impegnati. E ti vogliono bene. Pronto? Ciao, ciao. Sono io. Chi? Sono papà. Vaffan... Ogni tanto vorrei essere su uno di quei treni. Non andresti. Tu hai detto di ammirare il mio coraggio. Sì, intendeva che ci vuole il coraggio ad andarsi. No, ci vuole molto più coraggio di stare. Stai andando a cercarlo, vero? Bel tramonto, eh? Bellissimo.